festose cerimonie svolte con la partecipazione di circa 250 mila alunni e delle loro famiglie hanno salutato l'inaugurazione dei corsi delle scuole elementari e secondarie dell'urve ecco un ugolo di piccoli scolari a fuire alla scuola elementare del quartiere salario che si intitola a Sandro Mussolini 1.700 alunni sono schierati nel cortile del regio liceo ginnasio Mamiani che sorge nella zona luminosa di piazza d'armi altri giovani alunni entrano nel regio liceo classico Torquato Tasso in via Sicilia al convitto nazionale vittorio Emanuele secondo vediamo il ministro degli esteri sua eccellenza il conte Galeazzo Ciano accompagnarvi personalmente il suo bambino i piccoli delle loro eccellenze Ciano e Bottai compagni di banco a e Grazie a tutti.